Quindi chiedo ad Eugenio Fedeli, che è direttore di ricerca e sviluppo, di dirci cosa sta facendo Rete Ferroviaria Italiana. Grazie. Ah, volevo ricordare le solite piccole regole. Avete il semaforino e quindi vi chiederei di rispettare l'andatura che il semaforo vi darà. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. L'intervento del professor Buzzi mi sembra che sia proprio l'apertura perfetta per parlare di treni. Perché, diciamo, se pensiamo al platoon su un'autostrada e lo portiamo all'ennesima potenza, non facciamo altro che ricostruire un treno. E quindi centralizzare, mettere insieme la necessità del servizio di trasporto realizzando appunto un insieme di vagoni che viaggiano sulla rete ferroviaria. Qualche numero sulla rete ferroviaria italiana. 24.000 km di binario. Rete Ferroviaria Italiana è il gestore, la società che gestisce la manutenzione e la costruzione dell'infrastruttura nazionale. Abbiamo 1.350 km di binari ad alta velocità, 60.000 ponti e 2.000 gallerie. Numeri che danno un po' l'idea di quella che è la pesantezza, come diceva il dottor Barberio, della nostra rete. Chiaramente un così vasto asset determina la necessità di avere una tecnologia diffusa e sempre più diffusa per il controllo e il monitoraggio di un'infrastruttura che è fatta di ferro, di traversine, che è fatta di ponti e che quindi nel prossimo futuro genererà un numero di device enormi per il controllo e il monitoraggio della stessa. Oggi abbiamo stimato che abbiamo circa 20 milioni di device sulla nostra rete e al 2035 questo numero diventerà 2 miliardi. Quindi avremo la necessità di gestire un enorme mole di traffico dati e con la necessità di tempi di latenza bassissimi per riuscire a gestire anche in tempo reale quelle che potrebbero essere le anormalità, le anomalie che si determinano sulla nostra rete. Per questo motivo la ricerca e sviluppo di rete ferroviaria italiana che sta crescendo in maniera esponenziale in questi anni è distribuita sul nostro territorio con tre centri di ricerca. Uno che si trova a Roma, uno che si trova a Firenze e uno recentissimo che abbiamo proprio inaugurato nelle scorse settimane che si trova a Bologna dove abbiamo realizzato un circuito di prova per la prova dei rotabili ma che è anche un campo di prova per le nuove tecnologie della Terra. Quindi un po' le missioni di ricerca e sviluppo sono l'innovazione tecnologica, il miglioramento della qualità del servizio ferroviario, le prove e le misure perché i laboratori sono alla base della ricerca e sviluppo come molti di voi sanno e la gestione integrata di questi laboratori ci consente di esplorare le nuove tecnologie, di esplorare nuovi scenari di riferimento. Velocemente cosa facciamo a Firenze o Smannoro? Abbiamo un'enorme camera anecoica lunga 40 metri all'interno del quale possiamo provare questa foto sulla sinistra dove c'è scritto Banca e Rulli, dove abbiamo un tapirulam per treni, dove possiamo proprio provare il comportamento dinamico delle locomotive e di tutti i mezzi di trasporto anche trainati su ferro e possiamo verificarne la compatibilità elettromagnetica effettuando misure di immunità e di emissione elettromagnetica. Proviamo anche le caratteristiche meccaniche, proviamo il pantografo, che sono tutti elementi che domani saranno oggetto di sensorizzazione con l'applicazione di device che ne controlleranno e ne monitoreranno il comportamento. A Roma invece abbiamo i laboratori della ricerca e sviluppo per le prove sui componenti hardware. Potete vedere questa foto in alto a sinistra dove abbiamo una rotaia intelligente, cioè una rotaia dotata di sensori tecniche stensimetriche, molto conosciute, che ci permette di conoscere le sollecitazioni dinamiche in tempo reale che il treno va a impartire sulla rotaia e quindi ci permette di avere un controllo sia dell'integrità della via ferroviaria che come potete bene immaginare è un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione che è anche fare del monitoraggio per evitare che ci sia un degrado della qualità geometrica del binario. Oltre a questo abbiamo anche dei treni misure, dei treni laboratori che circolano costantemente sulle nostre reti per andarne a verificare il buono stato e la qualità del servizio. Quindi mettendo insieme tutto quello che è l'infrastruttura e tutto quello che anche sono i sistemi di misura che abbiamo a bordo dei treni abbiamo sviluppato tutta una serie di iniziative che tendono a migliorare l'ingresso delle tecnologie nel nostro mondo dell'infrastruttura. Questo è il circuito d'essere che abbiamo costruito ma velocemente volevo andarvi a far vedere quelli che sono un po' i nostri progetti di punta in questo momento. Il primo è sicuramente quello del sistema radar che stiamo implementando diffusamente sulla nostra rete con un safety integrity level 4 quindi a sicurezza intrinseca che equipaggerà le pensiline delle nostre marciapiedi per andare a fare il monitoraggio dell'attraversamento della linea gialla. Voi sapete che uno dei problemi maggiori che abbiamo oggi e le cause di incidentalità nelle nostre stazioni è legato proprio all'attraversamento della linea gialla e all'investimento delle persone. Uno stesso sistema sempre basato sui radar lo stiamo implementando per andare a proteggere i versanti franosi sempre con le stesse tecnologie si è spenta la presentazione e un altro esempio è quello dell'utilizzo di un drone ultraleggero a guida completamente automatica per andare a fare le verifiche lungolinea dopo il passaggio dei cantieri. Voi dovete pensare che ogni notte su tutta la nostra rete nazionale con i 24.000 km di linee escono dei canteri e noi facciamo manutenzione di notte perché durante il giorno non possiamo fare manutenzione sulle nostre linee perché passano i treni e quindi la facciamo di notte. Ma dopo che è passato un cantiere di rinnovo per esempio dell'armamento noi in una notte riusciamo a cambiare un chilometro di binario cambiando la massicciata, cambiando le traversine e cambiando anche la rotaia e il giorno dopo il primo treno della mattina percorre questo binario appena costruito ci stiamo dotando di un drone automatico per la verifica che tutto sia andato bene e che il binario sia libero. Crittografia quantistica però vado velocemente a quello che è il progetto pilota del 5G visto che il tempo sta scadendo. Allora come facciamo a cumulare insieme l'enorme numero di, diciamo la quantità enorme di dati che verranno nel prossimo futuro da questi due miliardi di device che avremo sulla nostra rete? Non possiamo che farlo attraverso l'utilizzo del 5G. Quindi abbiamo avviato un progetto di ricerca con la fondazione Ugo Bordoni e anche con la fondazione Bruno Kessler che sta qui seduti al tavolo dei relatori e che ci permetterà di esplorare la possibilità di andare a realizzare su un sito prova e quale miglior sito prova se non quel nostro circuito che abbiamo costruito qualche settimana fa per andare a provare la centralizzazione di tutta la sensoristica della diagnostica e quindi definire un'architettura di rete per il layer 5G ed anche di valutare la possibilità di integrare il 5G con il traffico satellitare. Quindi utilizzare il satellite in sinergia con il 5G per riuscire ad ottenere un'ottimizzazione sia della copertura che dell'affidabilità del servizio. E questo lo stiamo facendo partecipando a una call dell'Agenzia Spaziale Europea che mette a disposizione dei fondi per la verticalizzazione in ambito ferroviario. In estrema sintesi l'applicazione che pensiamo parte da un'esigenza manutentiva quindi da realizzare una smart maintenance, una manutenzione intelligente basata su quella che è la realtà effettiva, quindi real time dei device e quindi del traffico ferroviario ma che chiaramente apre anche la possibilità degli orizzonti ad utilizzare questa rete 5G che realizzeremo lungolinea anche per fare dell'altro. E chiaramente la prima cosa che viene in mente è quindi di aumentare il servizio a bordo, dei servizi a bordo, dando la possibilità quindi di accedere al web per il streaming o per tutte quelle che possono essere necessità attraverso la rete 5G che noi stiamo costruendo per esigenze manutentive. Direi che questa è l'attuale architettura della nostra rete che è tipica e questa sarà l'architettura del futuro in cui abbiamo appunto la copertura 5G e laddove la copertura 5G potrebbe non essere conveniente abbiamo la copertura satellitare realizzando degli endover tra il satellite e anche il 5G. Quindi concludendo, questo è l'ultima slide, l'eliminazione della rete LAN che chiaramente dovrà rimanere per la parte di traffico dati in fibra ottica pesante e quindi del backbone, la riduzione delle esigenze di calcolo perché ricordiamo che il 5G come abbiamo sentito nei giorni scorsi ha la grande caratteristica di andare a spostare l'intelligenza localmente e quindi non necessita di avere una centralizzazione dell'intelligenza nei server. Chiaramente una grandissima capacità di trasmissione, un aumento della copertura, riduzioni di costi che ci aspettiamo appunto realizzando anche delle sinergie con la vendita dei servizi agli operatori e chiaramente quella la possibilità di gestire un grandissimo numero di IoT diffusi su tutta la nostra rete infrastrutturale. Grazie a tutti. Grazie Eugenio Fedeli.